Mercoledì 23 ottobre si è concluso il Summit dei Nobel per la Pace 2013 di Varsavia. La giornata, estremamente intensa, ha visto come protagonisti molti premi Nobel e organizzazioni che hanno sottoscritto un impegno all'azione e alla solidarietà. Inoltre, è stata premiata l'attrice americana Sharon Stone da Sua Santità e il Dalai Lama per il suo impegno e lotta contro l'AIDS. Grazie mille per accoglie me oggi. I cannot tell you how proud I am. Thank you. Thank you very much. I just got an award today It's the Nobel Peace Summit Award And I got it from all of the Nobel Peace Laureates And I'm pretty darn proud of that And you know what? This can be in your future too Go ahead, go out there Be a peace activist I dare you Go ahead, go ahead